Alzato il pallone d'oro, non parlo della Coppa del Mondo, pallone d'oro, non so se mi spiego. Il giorno dopo ero a bere il caffè come una persona comune, come tutti voi. Ho fatto il primo gol al Brasile, lì c'è stata la liberazione e abbiamo ritrovato il nostro Paolo Rossi, quello che conoscevamo tutti, quello che faceva la differenza e quello che alla fine ci ha fatto vincere quel mondiale. Pallorossi, quindi l'incubo di tanti difensori e grazie a Dio ha giocato per l'Italia e anche per il Milan. Grazie. Grazie. Ricordi indimenticati. E Paolo, scusate.